Perché ci presenteranno subito un fantastico Samba! Un bel applauso per Marco e Laura, Samuele Camara, salva! A scuola di parola, scuola di parola, salva di Iola! Volevo! A scuola di parola, scuola di parola. bravi ragazzi noi proseguiamo e questa volta che ho in pista Roberto, Denisa, Simone e Giulio